la principessa beatrice ha affrontato un'incredibile sfida nel 2010 e kate middleton ha rivelato perché non lo farà mai la famiglia reale è un gruppo sportivo e kate la principessa del galles non è mai troppo lontana dall'azione quando si tratta di competere o mostrare la sua abilità atletica tuttavia c'è uno sforzo fisico che non sarà in grado di provare ma non perché non sia abbastanza in forma la giornalista brioni gordon che ha gestito la maratona di londra per heads together un'iniziativa di salute mentale guidata da william e kate ha rivelato che la principessa le aveva detto che non avrebbe mai preso parte alla gara brioni ha detto a runners world che al lancio di heads together nel 2016 ha chiesto a kate se avrebbe mai corso la maratona secondo il giornalista kate ha risposto o non posso perché la sicurezza è un po difficile non c'è dubbio che l'atletica kate vanterebbe un impressionante tempo di maratona se dovesse partecipare alla gara che si tratti di corsa tennis rugby gare di dragon bot o battere il marito in una lezione di spin la futura regina è incredibilmente in forma ma mentre kate non correrà lei stessa le 26,2 miglia ha ispirato brioni ad accettare la sfida in risposta al commento sulla sicurezza di kate brioni ha ricordato ma io ero tipo certo sì sì buona scusa se posso farlo io chiunque può ho pensato non so perché ho appena detto che posso fare una maratona non posso nemmeno correre per un autobus ma lei era tipo ho mai intenzione di fare una maratona ero tipo immagino che farò la maratona secondo kate suo marito il principe william è un altro reale che non completerà la grande corsa